Salve a tutti ragazzi bentornati nel canale benvenuti in questo nuovissimo video signori è cominciata la stagione 2 su my team NBA2gay23 andiamo a vedere tutte le novità che ci sono nelle varie modalità, nei vari mercati, nelle varie cose, sfide eccetera ma prima di andare signori come al solito vi chiedo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella delle notifiche allora signori io partirei direttamente dal pass, io già ho fatto l'accesso, al primo livello subito gratis gita Nikola Jokic free agent non sprecatelo giocandoci a caso perché serve per fare delle sfide e quindi se ci giocate a caso rischiate di non prendere poi gli XP collegati il pass diciamo che più o meno è il solito, al quinto livello abbiamo la salita, abbiamo un pacchetto delle nuove carte che sono uscite all'ottavo ci abbiamo 3 Jones, degli Spurs, Smeraldo, che anche questo servirà per fare le sfide Spotlight a livello 10 la palla del gioco che fa veramente schifo direi undicesimo ci abbiamo la salita, qui abbiamo un altro pacchetto S2 qui comincia a starci dei pezzetti per quanto riguarda i Trophy Gaze Bogdanovic a livello 16, Zaffiro, questo sempre per fare le sfide altro pacchettino, salita al 18, vabbè gettoni, un'altra salita, Legendary Franchise Moment Exchange ma aspettate un attimo, ah ok hanno cambiato perché la scorsa season c'erano solo gli Elite Franchise mi pare quindi stavolta ci hanno messo pure questo che è abbastanza raretto come pezzo di Trophy Gaze poi abbiamo un Mikhail Thompson, non so se si pronuncia così, Rubino a livello 24, un'altra salita un altro Elite Franchise Moment Exchange, lo stesso no è diverso, perfetto 20 cettoni a livello 28, livello 29 un altro Elite Franchise Highlight Exchange un altro Legendary Franchise Moment, a livello 32 il tanto amato Zion Infinity quindi per la prima volta mettono carte uscite nei pacchetti sul pass non mi pare che era successo l'anno scorso mai, però non vorrei dire bagianate un'altra salita a livello 35, un altro Trophy Exchange, 75 cettoni a livello 37 25.000 MT a livello 38, a livello 39 il classico pacchetto opzione stagione 2 e a livello 40 signori David Booker Diamante Rosa 96 di Overhaul su questo ne parleremo su altri video per quanto riguarda il reward del livello 40 per arrivare a livello 40 hanno già aggiunto un bel po' di robetta vabbè qui i classici punti giornalieri qui hanno messo bonus PA limited che appunto sono validi solo per due giorni, tre diciamo tutto il limited si fa, fateli perché comunque non sono impossibili vincere quattro partite, 100 punti, due vittorie, 20 punti e una vittoria sono comunque più di circa 3000 punti, forse un po' di più ah io come vedete ho il bonus perché ho la versione quella da speciale insomma non ho la base e poi saldo stagione 2, questi pure sono tanti 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 punticini durano 13 giorni, 14, 14 giorni diciamo e mi ha balzato su dall'occhio questi qua sotto che danno 3000, 2500, 2000 punti non sono difficilissimi, sono tipo quelli dell'anno scorso ma leggermente più semplici e più veloci da fare perché basta fare 5 win anche in TT offline con 3 diamanti che in Doria dovreste avere perché se avete giocato un minimo nella stagione precedente ce l'avete sicuramente questo invece mi ha fregato perché non è sempre con il TT ma bisogna fare due partite con tre diametisti quindi bisogna fare un dominio oppure vi consiglio le sfide giornalieri perché ci sono i quarti da 3 minuti e quindi fate prima poi vediamo un attimo se già ci sono e questo invece viene dischiacciato in modalità multiciocatore per come il gameplay penso che si fa easy le stoppate si fanno giocando i classici 10 tiri da fare sul momento clutch online più o meno questi sono tutte diciamo sfide che già abbiamo visto in passato tiri da treno al limite comunque si fanno tutti ragazzi giocando senza che ci andate apposta a vederli per farli appositamente però ricordatevi che durano solo 13 giorni e 22 ore già a partire da adesso poi qui ci sono tutte le sfide legate alla nuova collezione feroce quindi dovete comprare i giocatori eccetera eccetera qui ti danno un historic pennant se fate le schiacciate tre schiacciate se fanno easy con le sfide si portate a casa 1500 punti che non fanno schifo questo naturalmente ci dovete avere il giocatore della collezione proprietario originale e poi a salire gli altri naturalmente se avete gli empty ve li prendete se no non lo so shoppate fate come vi pare naturalmente arden diamante rosa non so quanto costerà penso un botto sarà dura prendere quei 3000 xp a meno che non lo trovate o shoppate poi stagione 2 inquietante queste sono delle carte nuove che vanno a sostituire quelle del volume 1 volume 2 volume 3 che erano uscite nella prima stagione quelle che per dire se le raggruppavi ci sbloccavi c'è allen brown oppure mollin non mi ricordo chi altro e qui praticamente ci sono sia sfide per giocatore singolo quindi ti prende a isaiah thomas e fa 40 punti 10 assist malone fare 10 rimbalzi poi sono quelle generiche dove invece basta fare 20 triple rimbalzi punti vittorie eccetera eccetera quindi pure questi sono dei punticini abbastanza semplici da fare sicuramente isaiah thomas e malone non so penso costeranno più degli altri quindi sempre da valutare questa cosa altra cosa interessante che hanno aggiunto e che non c'era nella vecchia nella vecchie diciamo xp della prima stagione i punti giocando con gli altri con gli amici praticamente in tribide minaccia online co-op quindi pure questi sono bei punticini perché sono 1000, 2000, 4000, 6000 sono quasi 7000 punti che fanno abbastanza comodo quindi se avete degli amici fate queste co-op insieme vincete insieme e portate a casa dei punti xp insieme poi vittorie my team queste in realtà danno pochissimi punti però vabbè pure queste si faranno man mano giocando sicuramente le farete tutte e vi portate a casa sto pacchetto inutile dei badge qui hanno rimesso la stessa cosa della scorsa season ovvero 100 win per prendere il center prize in tt online 250 punti per prendere quest'altro pezzetto e vincere 10 partite in modalità giocatore singolo per prendere quest'altro exchange qua legendary franchise moment sempre per quanto riguarda i trophy case e poi per finire abbiamo i soliti le solite diciamo xp spotlight con i giocatori che stanno sul pass allora per quanto riguarda il pass abbiamo visto tutto il dominio è rimasto uguale non cambia niente io non lo sto giocando momento decisivo naturalmente si azzera triplice minaccia si azzera pure questa se non lo sapevate ora lo sapete è ufficiale quindi si azzera tutto al 250 c'è il center prize i center prize hanno detto che in questa stagione saranno 10 però non li hanno messi come potevo immaginare cioè nel mezzo di queste modalità perché effettivamente so come la stagione scorsa cioè per prenderlo con la triplice minaccia fai 250 win per prenderlo in unlimited fai 6.000 punti per prenderlo con i tt online fai 100 vittorie e clutch singolo e online 100 vittorie quindi non è cambiato niente oddio sul clutch non so se a 50 win c'è perché non si può vedere però secondo me visto l'andamento delle altre modalità penso che non ci sia per quanto riguarda le sfide vabbè qui hanno messo questa è quella iniziale qui hanno messo quella dei YOLO che ti dà 10 cettoni e qui c'è quella del pacchetto nuovo quindi questa volendo fatela ve fa pure il pacchetto stanno veramente so bastardi perché ti fanno fare tre sfide per prendere un pacchetto che non è nemmeno deluxe quindi per trovare il nulla cosmico però ve da 1500 punti xp a inizio stagione un po' per grandare i punti fanno comodo questa è la sfida diciamo giornaliera che vi dicevo di fare per la sfida di giocare con 13 ametisti perché dura 3 minuti a quarto quindi fate prima le spotlight vabbè sono quelle diciamo collegate ai giocatori che stanno sul pass le solite finché non arrivi alla fine che c'è Devin Booker quando lo sblocchi praticamente perché se no non puoi non puoi fare queste sfide poi hanno aggiunto questa sempre per Devin Booker che penso ti dà anche un badge non lo so mi pare una roba di questo tipo queste qua non le faccio mai sinceramente non mi interessano e poi c'è quella di Jordan che c'era già pure la prima season quindi niente di che multi giocatore ah vabbè c'è Canyon Martin come takeover iniziale però diciamo di giocatori ne parlerò con un altro video la limited che è la modalità ragazzi più importante a livello di grind cioè di premi che vi dà i premi maggiori è stata aggiornata quindi ci sono 5 cettoni 10 cettoni carte bagaglia trofei 50 cettoni se vi serve i cettoni ragazzi giocate qui perché è la fonte di ispirazione maggiore e soprattutto anche se perdete comunque salite di classifica salite di punteggio e quindi prima o poi ci arrivate è simile alla scorsa season qui ci sono l'option pack il center price a 6.000 5.000 MT in altro pacchetto sono i cettoni la palla diamante premio i cettoni MT ci hanno messo l'ametista Grand Hill che non so che cosa ci faremo al posto di Monty Williams che c'era la scorsa season che secondo me era un premio veramente veramente più importante di quello di adesso i box da 10 a 12.550 punti che sostituisce quello che c'era nella scorsa season ovvero il limitless e poi sempre a salire solite cose cioè quindi cettoni MT cettoni badge giallo fame finché non si arriva al pacco da 20 sempre della collezione ferocius poi momento decisivo in realtà non è cambiato nulla triplice minaccia online sempre la stessa qui addirittura non mi si è manco risettata vabbè la limited ti dà sempre l'option pack questa settimana devi usare 10 carte serie 1 e in più puoi usare solo due metiste tutte le altre deve essere rubino il draft è aggiornato con la nuova collezione poi altre cose da vedere penso che c'è rimasto solo il mercato cettoni dove hanno aggiunto non lo vedo più ce l'avevo prima ragazzi aspettate prima c'era qui si bagga la roba si bagga tutto su sto gioco vediamo un po' l'avevo visto io l'hanno già tolto ok era uscito per caso comunque era uscito che si poteva c'era un altro diciamo rettangolo dopo Western Conference per 1500 token no non c'è sta proprio l'hanno tolto vabbè mi sarà scappato comunque io già l'avevo visto gli ho fatta pure una foto dopo con 1500 token si potevano acquistare due center prize quindi secondo me se sono sbagliati a farlo vedere adesso l'hanno tolto però sappiate che si potranno acquistare con 1500 token io ce ne ho 705 quindi pochissimi però va bene così per quanto riguarda il resto vabbè l'amichevole ragazze aggiornano tutti i giorni mandateci i giocatori che non usate così vedrà qualche premio stupido come sempre e qua non so se hanno aggiunto qualcosa di nuovo che è questo ah ci hanno messo Tyson Chandler bene chi cazzo ce lo va a mettere 6 giocatori che giocatori chiede guardate a comprare fate prima e vabbè i pacchetti quelli là e niente ragazzi qui le solite cose per fare i trophy case sono ancora buggati sì ragazzi sono ancora buggati cioè ci hanno messo 1 2 2 della stessa conference e poi altri 2 vabbè è un bug completo questo gioco e non mi pare che c'è nient'altro di importante quindi abbiamo visto tutto ragazzi io vi ringrazio se avete visto il video fino a qui da Ricky Montana è tutto mi raccomando lasciate un bel like iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e niente ragazzi noi ci vediamo probabilmente con un altro video dove analizzo le carte uscite della feroce edition non mi ricordo come si chiama in inglese dove è che sta ferocius edition e niente boys grazie ancora alla prossima ciao a tutti grazie a tutti